Per quello che riguarda la manutenzione sulle macchine come ricambisti, noi vediamo che all'interno di quelle centinaia di articoli che costituiscono mediamente una macchina professionale, solitamente l'attenzione di chi fa manutenzione ricade solo su circa un 25-30% degli articoli, per cui si parla solitamente di 50-70 articoli, questo si parla ovviamente di una prima manutenzione o a volte proprio delle prime problematiche. Per quello che invece riguarda quelle che possono essere viste come le nuove tendenze, negli ultimi anni sicuramente assistiamo a tutta una maggiore attenzione per quello che riguarda gli accessori della macchina e tutti i prodotti complementari. A questo faccio riferimento a quello che può essere tutti gli articoli che riguardano la pulizia della macchina, per cui anche questo che rientrano nella gamma della manutenzione della macchina, tutti quegli articoli che rientrano nella gamma del trattamento delle acque, per cui tutti i sistemi di depurazione delle acque, da quelli manuali a quelli automatici o a quelli a cartuccia e poi c'è molta attenzione anche a dare tutta una serie di articoli di complemento che sono destinati al barista, tipo il pressino, il portafiltri, tutti quelli un pochino senza volerli sminuire, quelli che riguardano l'accessoristica per l'utilizzatore della fila. Grazie mille! Grazie a tutti